Musica Credo che realizzare il design di moda per tutti i giorni sia davvero bello perché potrai vedere la tua creatività a prendere vita Volete sapere cosa ho scoperto essere ancora più piacevole? La moda sposa Aiutare le future spose a non perdere il controllo Sapete quante pressioni ci sono con questo tipo di lavoro? Le vostre clienti cambieranno spesso idea Avrai delle scadenze da rispettare ad ogni costo Ma ho trovato una macchina da cucire che darà libero sfogo alla mia creatività e che mi permetterà di realizzare qualsiasi cosa abbia in mente con risultato sempre professionale Sto parlando della Horizon Memory Craft 15000 La macchina che vi permetterà di realizzare qualsiasi cosa vogliate senza dover perdere tempo ad esercitarvi per imparare È così veloce e silenziosa da permettervi di rilassarvi ascoltando la vostra musica preferita in sottofondo Il ricamo è davvero incredibile potrete modificarlo direttamente sullo schermo e la qualità del ricamo lascia le mie clienti senza parole Possiede un grande braccio libero uno schermo fantastico una comodissima luce ed ogni punto decorativo che abbia mai immaginato Utilizzo questa macchina in ogni momento ogni giorno amo davvero la sua affidabilità Non sto realizzando soltanto accessori per la sposa ma sto creando il vero protagonista di un giorno indimenticabile che le mie clienti non dimenticheranno mai Tutto questo grazie alla mia Memory Craft 15000